Allora il Kdk Skull sta avendo un grande successo per chi non avesse visto, nelle scorse live abbiamo costruito il Kdk Skull che è il campo dove ci si concentra a lavorare, abbiamo zombificato e dezombificato 47 miliardi di volte sto poveretto di un villagers, in modo tale da avere letteralmente stick gratis, addirittura ci vende le frecce, ci potenzia le frecce, ci danno velocità, a che serve le frecce da velocità, a niente, cioè questa sia la cosa più inutile del mondo, vabbè. Abbiamo anche comprato questi archi qua, mamma mia che casino che sta facendo Tommaso, Tommaso adesso ti do da lavorare, aspetta, sto tizio qua vende l'arco della madonna ragazzi, cioè guardate, per uno singolo sveraldo, ovviamente perché l'abbiamo dezombificato 5 volte, oh aspetta, oh, che sono tutti sti pesci? Oh cibo, raga ma che è successo, perché c'è strage di pesce qua? Vabbè io rubo. Abbiamo l'ultima mela d'oro, quindi dovremmo fare magari tipo una piccola farm di oro di quelle velocissime che facevo una volta, in modo tale da fare un po' di oro, fare un po' di mele e zombificare e dezombificare chiunque. Ho di armature di diamante potenziandomi, traddando con questi, questo vuole il carbone e il carbone, il carbone non ce l'ho quindi andiamo di smeraldi. Andiamo con l'armor, è anche quello più importante adesso, lui è l'armor, è giusto? Andiamo. Ok, quanto pattume, mettiamolo qua dentro. Magari un giorno ci farò qualcosa, ma non credo. Vediamo se c'è qualche trade un po' più interessante di sti cazzo di pantaloni. Il ferro! Il ferro può essere interessante. Dai pantaloni a Tommaso, riprendi i pantaloni Tommaso. Tommaso li vuoi dei pantaloni? Eh! Abbiamo vestito Tommaso! Tanto potenziamo anche il toolsmith. Ascoltate, le pale, le pale di pietra possiamo anche cacciarle via direi. Oh, anche questo vuole il ferro. Però prima volevo potenziare lui. Chi ha un diamante? Non mi sembra un grande acquisto eh. Tommaso, c'ho un altro pezzo di armatura per te. Vestiamo Tommaso. Oh lei, guardate che bello che sta diventando. Comunque posso dire che la gestione di village è la cosa più bella. Anche su pantaloni sono divertito un botto a fare sta roba qua. Allora abbiamo una merda. Però intanto sono sette diamanti. Tanto voglio dire, noi lo compriamo, poi lo disinchantiamo. Quindi è come ci avesse dato sette diamanti per 28 smeraldi. Anzi, 28 stick. E questo non è male invece perché abbiamo sia un breaking che protection. Quindi questi qua li sommiamo e facciamo i piedi a modo. E ci arriva a dare qualcosa. Ah, perché ci dà un altro pezzo di armatura dopo, è vero. Tommaso sta tutto acchittato per il lavoro. Mi chiediamo degli stivali inchiantati di diamante a Tommaso. Lo drippiamo tutto. Sono maxi da full armor. Davvero? Ah, è vero. Oh, lavorano tutti, bene. Ma what? Come? Inflazione! Si è alzata l'iva. No, devo rimandarlo a Tommaso. Va bene, tornerà da Tommaso. Vabbè, allora facciamo con lui intanto. Protection 2 è accettabile. Project Health Protection. No. Però intanto li abbiamo. Iniziamo a prendere un pezzo alla volta. Qua devo un attimo accompagnarlo. Ecco qua. Vai Tommaso, vai. Pensaci te. De zombifichiamolo. Ecco fatto. Ragazzi, oh, ci andiamo dopo perché andare a fare delle cose nel frattempo. Oddio, potremmo già iniziare ad unire questi. Fammi vedere quanto mi... Dai, usiamo sti cazzo di livelli. Poi li mettiamo Infinity che dovremmo avercelo da qualche parte. Qua. Micchi è perfetto. C'è uscito un arco della Madonna. Un arco Madonna. Arco Madonna lo chiamiamo. Anzi, l'arca è Madonna perché è un arco della Madonna. Micchi ho quattro livelli per rinominarlo. Ma sei pazzo. Ah boh, dai, facciamolo. Si vive una volta sola. Recambraking anziché Mending sull'arco puoi semplicemente scegliere o Mending o Infinity. Non puoi averli entrambi e sull'arco preferisco avere Infinity dei due. Allora, ricordatemi una cosa. La Redstone allunga la durata, mentre la Glowstone invece potenzia. Sì. Ok, vai. Ci può far comodo avere delle pozioni di Fire Resistance. La Redstone nei due Rex allora. Ottima idea. Allora, in più quando farò sesso userò la Redstone, ragazzi. Redstone nel Viagra. Ecco! E se il Viagra fosse fatto di Redstone? Ci avete pensato, ragazzi? Ma è blu. Poi usano i coloranti, che non ce lo vogliono far sapere. Abbiamo l'arca Madonna, che è fortissimo, veramente. L'arco più forte del mondo. Pensiamo un attimo a cosa ci serve per fare la farm di oro primordiale. Ci servono dei blocchi generici, non serve poterne una quantità esagerata. Ci serve la crafting table, ce l'abbiamo. Ci servono le bottole e la Redstone. Le leve e degli hopper. Ci potrebbe servire una Redstone. Cosa ci serve a Redstone? Nel caso in cui ci droppassano le spade inciantate, sono un po' di livelli. E per tutte le spade, se vogliamo più oro, magari ci perdiamo una bella fornace. Abbiamo lo scudo con noi, sì, ce l'abbiamo. È veramente una cagata e non aspettatevi chissà che. Però hashtag funzionalità nel dubbio. Dobbiamo intanto trovare un punto dove scavare. Perché dobbiamo attirare i pigman e poi loro devono schiantare. Quindi vediamo un attimo dove andare a scavare. C'è un fungo marrone là. Uno proprio. Siamo ad altezza 48 da qui. Però non me ne caschi nessuno qua dentro. Altezza 48, 38. Ok, siamo arrivati in fondo. Qua siamo ad altezza 32. Di base non è male. L'idea è che qua cascano i tizi. Poi l'altro buco lo facciamo qua. Aia! Chest. Uno. Due. Aspettate. Tappiamo un pochino qua intorno. Che non è proprio piacevole essere a un centimetro dalla lava. Perfetto. In teoria, confermatemi dalla chat, anche i pigman bambini non dovrebbero passare perché sono sopra il tappeto. Dico bene, se no è un attimo qua a mettere delle slab. Poi proveremo, ragazzi. Tanto anche se ne esce uno non è che succede nulla. I bambini! Ci sistemiamo anche... Oddio. Magari non qui. Ci sistemiamo anche una grindstone, fornace, altre due hopper. Tanto servono sempre. Sti cazzo ne faccio qualcuno in più. E così. Se metto la roba qua finisce nell'hopper e in teoria dentro la fornace. Qui io direi che sarà una buona idea chiudere perché cosa dovremmo fare? Dovremmo aggrare tutto l'odio da parte dei pigman e quindi se non ce ne sono da nessuna parte è meglio. Quindi qua l'ideale sarà tappare per evitare colpi di ghast, evitare che qualche pigman si incazzi. Ci serve l'entrata. L'entrata dove possiamo fare? Tipo qui così. Purtroppo non sono velocissimo. Lo sapete, richiedo i miei tempi. Cazzo, ma la ce ne stanno un sacco. Allora vuol dire che devo fare una scalinata. Dobbiamo fare delle scalinate qua, ragazzi. Gli scalini facciamo di cobblestone. Allora l'idea è quella di attirare più pigman possibili, no? Questa è l'idea di base. Eeeh, dei... Vai, arca madonna! Preso! Che potenza. Che potenza incredibile. Allora noi qua dobbiamo fare un po' di scale in modo tale che questi possano salire, no? L'idea è questa. Che bello, quanto sono piacevoli questi versi continui. Devo fare una piattaforma da questo lato qua. Sarà un'altra farm bruttissima, quindi perfettamente in linea con i nostri gusti. Qui è da dove entreranno loro. Tre e quattro. Qua dovremo erigere il muro. Allora io provo a farlo di legno, però di cobblestone sarebbe meglio. Ma non ne abbiamo, quindi lo faremo di legno ovviamente. E qui si vola giù. Dobbiamo ovviamente fare in modo che loro, una volta triggerati, una volta che li abbiamo picchiati e quindi si aggherranno in 50, arriveranno qui e cascheranno dentro. Come si fa questa cosa? Costruiamo in modo tale che loro possano entrare soltanto in questo punto. Facciamo con un po' di sabbia, come si fa in Italia. Le migliori case sono sempre costruite in sabbia, ricordatevelo. E per finire, cosa c'abbiamo? Questa. Però, ma sto costruendo, ma cosa vuoi? Ragazzi, ma cosa vuole da me questa? Allora, se io adesso li picco dentro qua, loro mi vedono se dove fare qualche finestra. Facciamo qualche finestra, aspettate. In modo tale che loro sappiano sempre che sono qui. Ok. Loro però potrebbero fare così, ora che ci penso. Eh sì, effettivamente si può. Quindi, mettiamo delle belle slab volanti. Sono orribili? Assolutamente sì. Però sono funzionali, ancora di più. Io direi che possiamo fare già un test. Finestra. Sium! Prego, ragazzi, prego. Olè! Ah! Tutti sotto! Tutti! Venga anche lei! Giù! Vedete, c'ha anche tutta l'Exp. Però c'è gente... Beh, loro mi vedono attraverso i muri. What the fuck? Stanno incazzatissime. Ecco, vedete? Ci ha dorpato un po' di oro. Ora, ovviamente è poco, però ripeto, è soltanto l'inizio questo. Le spade d'oro, cosa ne facciamo? Noi le prendiamo. Qua ci mettiamo degli stick. Si potrebbe usare la lava, però nel momento in cui metto la lava ci cuoce una roba e poi il resto va tutto spercato, capito? Abbiamo fatto un gold nugget in più. Ora avete capito come funziona. Tipo, guardate là quanti sono. Ora, devo trovare un modo per agrarli tutti e riuscire a entrare lì dentro a fare la mia macumba. Vediamo un po' se ci riesco. Sarà un po' pericoloso, ma ci proviamo. Prendiamone tanti incazzati, tanti incazzati, tanti incazzati... Guarda, stanno volando tutti giù da là. Perché devo trovare il modo di passare qua. E... Ah, scemi! Olè! Prego! Mannaggia, si sono spinti a vicenda questi. Ma... Vabbè, pure te dentro. Oh, è sopravvissuto. Ragazzi, la stirpe dei Tommaso sono veramente forti. Minchia, ma quanto forte è sto tizio? Allora. Ripeto, non è molto. It ain't match, but it's honest work. Tic-tac-tuc. Tuc-tic. Prego, prego! Guarda quanta gente sta arrivando. Guarda quanti ospiti della nostra caffetteria. Venite, venite. Prego. Fanculo sto bambino qua. Eh? Dove va quello? L'ho appena picchiato, ma... Livello 29. Non è così brutta. Cioè, non va così male per essere una farm da 5 minuti. Letteramente è una roba che dite... Ok, sono appena entrato nel nether, voglio un po' d'oro, faccio sta roba con due materiali in croce. No! Porco! Oh, basta! No, basta, basta! Raga, per... Raga, perché non riesco a rispedirgliele indietro? Non capisco. Mi ha distrutto tutto. Perché io sparo preciso con la freccia addosso alla bomba del... No! Stavolta non ho fatto niente io. Che disastro, ragazzi. Stavolta mi sa che non riesco a uscire da qui. Ok, ho mangiato. Ragazzi, che tragedia! Ma... Cosa mi ha colpito? Cosa? Cosa mi ha colpito? Niente, scappiamo e basta. Siamo vivi, però. Siamo vivi e va bene. Allora, quanto ora abbiamo fatto rischiando la nostra vita? 19 lingotti! Sì, wow! Lui ha finito il suo turno. Ma... Già a uno! Oh, è tornato tutto alla normalità. Evviva, evviva! Guarda che meraviglia! Questo è a tre. Ma va bene, è lo stesso. Come ha fatto mezzalù? Allora, non lo so. Di solito ci vogliono 50 desombificazioni. Però tutte le volte che voi zombificate un villager e lo dezombificate, vi danno uno sconto. Ora, io non so come sia possibile che soltanto con una botta sia sceso così tanto. Perché di solito c'è tipo sto tizio qua, l'ho dovuto fare cinque volte il processo perché mi scambiasse gli stick a uno. Questo ne dobbiamo prendere un po'. Perché sono Protection 2, quindi 2-2, 2-2. Quattro ce ne servono di questi. Per adesso tre. Questo va Protection 2, quindi anche questo quattro. Questo qua è un enchant inutile, quindi ne prendiamo uno solo. Però noi possiamo zombificare e dezombificare un po' di gente. Io direi, se devo scegliere qualcuno, io sceglierei quello con Efficiency. Perché Efficiency devo metterlo a 50 strumenti, effettivamente. Anche se è un enchant molto comune in realtà. Ma è come Unbreaking, però Unbreaking non ce l'abbiamo. Allora, aspetta, però questo è il Toolsmith. Questo qua ci dà gli attrezzi. Io direi di mandare lui al potenziamento. Perché lui ci dovrà dare piccone, accette, indiamante, tutta sta roba qua. Quindi devo livellarlo tutto. Attenzione, Tommaso Pacifico. Tommaso, che è successo? Tommaso, non vuoi lavorare? Che facciamo? Non lavoriamo qua? Lasciamoli un po' di intimità. Ah, ecco qua. Oh, vedi? A posto. Sciopero di Tommaso, ragazzi. Non ho parole, non ho parole. Tagli le scarpe se non lavare le scarpe antifortunistiche, Tommaso. Dovrei fare una farm automatica di canne da zucchero, effettivamente. Tanto le so fare, sono delle cazzate. Dobbiamo fare anche delle farm automatiche di cibo, cioè di grano, sì, di qualsiasi altra cosa, però non ci interessano. Allora, fa un po' cacare questa accetta, però è un'accetta e questa è una pala, quindi è due, così facciamo un break in tre. Di accetta ne prendiamo solo una, perché sti cazzi è efficienza uno. Lui ci dà efficienza. Questo qua, ok, mandiamo lui da Tommaso. Poi basta per un po' perché non abbiamo più oro. Vai da Tommaso. Veloce. Vai Tommaso, è tuo. Tommaso, non mi far arrabbiare. Tommaso, stiamo scioperando? Eh? Mi arrabbio, eh? Ti licenzo se non ti metti a menarlo. Ti licenzo, hai capito? Ah, ecco, sarà meglio. Vai, prendiamo queste per Tommaso, ragazzi. Trippiamo Tommaso. Tommaso, tieni. Aia! Ah, è così che mi ringrazi. T'ho dato pure le scarpe. E ora che belle luminose che sono. Ma pensa a te, così ti ringraziano, così ti ringraziano. Allora, prossima costruzione sarà una farm automatica di qualsiasi tipo di cibo. Ok, perché tanto mettiamo un villager a lavorare e a raccogliere. Intanto vediamo se questo... Oh, ce l'ha fatta. Prego, torna al lavoro. E vediamo un po'. Ok, da 35 a 10. Buono. Per adesso ci accontentiamo perché non possiamo fare altro. Nice, ci sia Siltach. Eccolo qua. Ok, sono mega soddisfatto, ragazzi. Sono contentissimo. Allora, prossima farm che faremo. Una bella farm di canne da zucchero. È una cazzata, ragazzi, da fare, ok? Allora, cosa ci sai? C'erano dei pistoni. Tanto per cominciare. Quindi redstone. Redstone torci ci servono. In realtà, sì. C'è un po' di questi. Almeno due ce ne servono. Ce ne serviranno, ovviamente, di più. Uno finirà sul carrello. Quindi, tac, altro achievement. Andrà avanti e indietro. Zoom, 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 zoom. Dove facciamo questa farm? Beh, la facciamo qui, ovviamente. Oh, guardate. Qua è perfetto. La facciamo brutta. Bravi. Vedo che andiamo d'accordo, ragazzi. La facciamo ovviamente brutta. Iniziamo con... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. No, devo farla più alta perché effettivamente vorrei che ci siano le chest qua. Quindi le canne a zucchero stanno un po' più in alto, però. Facciamo tutto un po' più alto. Qua ci saranno le canne. A questa altezza ci saranno i pistoni. Qui sotto noi ci dobbiamo mettere il carrello che fa avanti e indietro. E oltre a quello ci dobbiamo mettere, guardate po', una bella cesta qua davanti. Qua ci si mette la cesta. Qua ci mettiamo un'altra cassa. Un altro hopper. Tuck. Adesso, cari amici, abbiamo bisogno di mettere un po' di rotaie. Tac. E qua è più complesso, eh. Che non vorrei che esse problemi... Vabbè, basta che l'hopper lo metto più al centro, ora che ci penso. Sarò scemo anch'io. Solo che qua devo per forza rompere. No! È vero che ce l'ha... Vabbè, in realtà non mi dà fastidio. Eh! Ecco qua. Ora c'è una cosa importante da fare. Se io metto un observer qua, a questa altezza, quanto siamo? A tre di altezza, sì. Poi faccio una roba del genere. Potrebbe funzionare. Ok, no, vanno tutti. Perfetto. Ora ovviamente sì, dobbiamo fare il muretto. Però visto che ho bisogno di tenerla d'occhio per vedere, insomma, come sta andando. La facciamo con il potente vetro. Potente vetrata facciamo. Fatta! Un applauso, grazie. Metti la terra un po' se... No, per favore, dai. È già abbastanza brutta così, secondo me. Non serve peggiorarla, sinceramente.